E poi dopo dovevo decidere cosa fare, io non avevo la minima idea di cosa fosse l'università, i miei ne avevano fatta e avevano alcuni amici tutti laureati in lettere e allora io avevo sempre sentito parlare di lettere e basta. Quando mi sono iscritta non avevo nessuna idea di cosa avrei fatto, anzi mi iscrissi a lettere e ci stessi un'ora sola e dopo un'ora di lezione di De Robertis mi venne una gran barba e capì avevo sbagliato strada.